Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Desimona Alessandra ed oggi parliamo dei veleni in Vaticano. Eh già, non è tutto oro quello che luccica e anche il Papa non se la passa poi così bene, anche lui ha i suoi nemici. Eh sì, perché proprio da USA ci sono tantissimi articoli in questo periodo su internet e anche sulle RAI hanno fatto vedere sul reporter un documentario dove illustravano questa situazione. C'è un movimento, diciamo la chiesa un po' più estremista, che non vuole questo Papa, la vuole sbolognare, non vede l'ora, perché dice che è un Papa troppo buono. Ma non è forse quella la sua missione, non dovrebbe essere quella la sua vocazione. E già è un Papa buono, perché è un Papa che si mette nei panni degli altri, come si dice solitamente. È un Papa che vuole capire, che vuole capire le famiglie, che vuole capire le problematiche e loro si sono scandalizzati perché non attua le vere, severe leggi della chiesa. Eh sì, perché è un Papa che guarda un po' che schifo, ha accettato i gay e che animale strano sarà? È un Papa che ha accettato il divorzio. Eh sì, perché loro preferiscono che una donna si faccia ammazzare di botte tutti i giorni e finire per morire nelle mani del suo marito invece di divorzare. Morire ammazzata sì, ma guai a divorziare. Eh sì, ancora nel 2020 sentiamo questo schifo e forse si sono scordati, visto che sono così tanto religiosi, quando Gesù salvò Maria Maddalena e non fece, fece buttare per terra tutte le pietre. E voi, cioè che scagliate tutte queste pietre, avete dimenticato un passo così importante? Oh mio Dio, quanto mi piacerebbe essere una spia piccolina, ma per poco tempo, anche solo per un giorno, per vedere tutta la vostra perfezione. Quanto siete puri, tutta la vostra bontà d'animo, quanto siete candidi, la vostra vita immacolata.